ma comunque dentro ho scritto questo guarda leggilo sorridi sei la ragazza più bella che ho visto oggi ecco sorrido io firmo anche il backstage della cosa e pubblichiamo anche questo facciamo leggere al pubblico qua ok mi sposto dalla che bello perfetto eccola qui la nostra olada perfetto così ok pronto sì ecco il mio telefono ok perfetto ma che ti firmo mentre c'è la cosa dimmi tutto tu perché sì sì questo la metto addosso aspetta la mette così tanto con una mano così allora dimmi un po' io schiaccio qui non sono molto pratico di queste cose qui devi schiacciare qua lei dove puoi stare qui o là qui anche qui qui va bene ok qui che siete un po' di torri di pisa però così ecco tu devi stare di qua però sì ma io è importante che lei dovrebbe essere così ok così tutto completo va bene va bene tutto completo no no ma ti puoi firmare solo un video sì poi dopo a zoomalo un pochino mentre lei sta ridendo per farti vedere il suo riso ok ok capito iniziamo no no aspetta ti dico io quando iniziamo tanto devo prendere il materiale no no mi guardo non mi guardo mi preoccupare ok dammi l'ok eh 1 2 3 axle stop così ok 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 io vado di nuovo allora tu inizi la inizia di nuovo devo iniziare di nuovo ok facciamo così ok